Il Cercalibro, Iat di Fornovo Taro, Medesano e Parchi del Ducato, in collaborazione con il Comune di Fornovo di Taro e di Medesano, vi presentano Racconti d'estate 2020. Dalle ore 21.15 la partecipazione è libera. 23 luglio, Fornovo di Taro, Invia Cesare Battisti, Corte Oppici, Visioni dal Sud America, racconti fotografici di Filippo Cardarelli, La Bruna e la Bionda. Grazie a tutti. Giovanni Previdi, l'ultimo confine dell'uomo. Giovanni Previdi, l'ultimo confine di Filippo Cardarelli, La Bruna e la Bionda. Massimo Gandolfi, l'esercito di ghiaccio. Giovanni Previdi, l'ultimo confine di Filippo Cardarelli, La Bruna e la Bionda. Giovanni Previdi, l'ultimo confine di Filippo Cardarelli, La Bruna e la Bionda. Giovanni Previdi, l'ultimo confine di Filippo Cardarelli, La Bruna e la Bionda. Cesare Groppi, Argentina tra sogno e realtà. Grazie a tutti. La Bruna e la Bionda. 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 Adorni con lettura di Paola Mazza. L'incontro si terrà all'aperto. In caso di maltempo consultare il sito www.associazionecercalibro.it. Un particolare ringraziamento a chi ci ospita rendendo così possibile lo svolgimento della manifestazione. Daniela Bassi, TG Parmense.